allora ciao a tutti ai belli e ai brutti gli antipatici no allora faccio questo video che io alberto abbiamo appena avuto abbiamo appena ricevuto una minaccia diretta io a 15 minacciato mi tolgo gli occhiali li guardo meglio guarda gli dico vieni vieni in sardegna ti aspetto la sardegna ha tre porti e quattro no tre aeroporti e quattro porti sigillari basta una telefonata tieni presente che in sardegna in sardegna abbiamo le galline i maiali e il genna argento te li faccio inserire tutti ti faccio conoscere le galline sante i maiali santi e ti faccio vedere il genna argento ti aspetto vieni pure vieni la casa mia vieni 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 ti aspetto a braccia aperta e guarda vieni